Oggi è l'inconfondibile logotipo giallo e blu il marchio che unisce tutti gli italiani con la scritta poste italiane fusa in una sola parola ma in 160 anni di vita sono tanti i loghi e le insegne che hanno contribuito a costruire l'immagine di poste italiane interpretando i cambiamenti dell'azienda e le trasformazioni di un paese intero il corno dei postiglioni e uno dei primi simboli iconici del servizio postale che dalla fondazione delle regge poste attraversa anche la storia del novecento dismessa la corona sono le due lettere pt di poste telegrafi e poi di poste telecomunicazioni a caratterizzare il marchio nelle successive interpretazioni grafiche accanto alla celebre insegna gialla bandiera il pittogramma pt rivisitato in chiave contemporanea diventa elemento di continuità storica in piena era digitale in un intreccio di modernità e tradizione talvolta le nuove insegne campeggiano accanto alle vecchie o si fondono con le architetture dei palazzi storici di poste italiane in una lunga storia creativa custodita e valorizzata dall'archivio storico di poste italiane segni e simboli che nel loro insieme appartengono al patrimonio visivo del nostro paese